Il motto della mente I Romani dicevano che il motto della mente era scire per causas proximas, conoscere per cause prossime, mentre il motto della filosofia era scire per causas supremas, conoscere per cause supreme. Perché? Commento Perché credevano che la filosofia, la mente, l'io potesse conoscere le cause supreme che invece sono conosciute dalla coscienza. I Romani dicevano che la filosofia, la filosofia, la filosofia, la filosofia, la filosofia, la filosofia. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti.